Siamo con Arianna Rigoli per parlare di questa sua nuova esperienza nella Virtus Futsal Viterbo calcio a 5 femminile dopo le stagioni con Alberto Seller Arianna, si ricomincia dalla D Si ricomincia dalla D, si Un po' sprecata sei per questo campionato No, perché? Chi l'ha detto? Lo diciamo noi, perché sei brava e forse in Cilio avresti Vabbè, magari essendo una giocatrice di esperienza hai visto qualcosa di riuscire a fare, no? Spero di riuscire a farne qualcosa, insomma Il gruppo è nuovo, speriamo che vada bene Noi ci metteremo tutto il nostro, speriamo di fare bene Abbiamo parlato con il mister, ha detto che il bello di questa realtà è che c'è da crescere, c'è da migliorare Sicuramente siamo un gruppo nuovo, le ragazze vengono dietro a calcio a 11 Quindi sicuramente tecnica a base, ce n'è di calcetto, tattica sopra, punto Quindi ecco, dovremmo lavorarci un bel po' sopra Però il colpo c'è, sono bravo ai ragazzi E sono contenta veramente di questa società Ovviamente ti voleva, pensiamo, la Libertà Stella per la conferma Ma ti avrebbe voluto al Montefiascone? Sicuramente no, perché no Io ho detto di no, allora c'è stato un riscontro da parte loro Quindi niente, Montefiascone mi voleva Non è stato il mio caso andare là perché non mi voglio dirti neanche questo Lo sport è questo, non mi voglio dirti neanche il passo Spero con loro di farci Cosa potrà fare secondo te questa squadra? Potenziale ce n'è, potenziale ce n'è molto E sicuramente speriamo bene anche Dico fincio il campionato perché è una cosa un po' Noi ci speriamo, non puoi mai dire mai, no? Però sono convinta che potremmo fare molto molto bene Dico, ultimi classifica no, non esiste proprio Perché è impossibile Però anche secondo posto potrebbe anche andare bene, via Diciamo che il podio in un pensiero ci si può fare Il podio c'è, sicuramente c'è Senti, in conclusione arianna, in questa sera di presentazione Vediamo tanto entusiasmo, tanta cogliardia, tanta voglia di stare bene Sarà questa diciamo la nostra Sì, no io lo spero perché ecco io ripeto Sono uno in questa squadra proprio per questo motivo Dai primi allenamenti subito ho visto Un riscontro da parte loro, se è tutto gioioso, festivo Cioè, è questo deve essere lo spirito dello sport Se no non vai avanti Condividiamo il piede Allora, bocca al lupo Previ, speriamo bene Dai, vi vorremmo a vedere un'altra settimana Forza Ciao, grazie Ciao, grazie a voi